Benvenuti alla lezione, ci troviamo bene sul tappetino. Portiamo bene i piedi radicati a terra, la coda in avanti, il petto alto. Inspiriamo, solleviamo le braccia su verso il cielo. Espiriamo, scendiamo. Inspiriamo il piede destro dietro. Ispiriamo la gamba sinistra su. Inspiriamo il piede sinistro tra le mani. Espiriamo il tallone destro che rientra. Inspiro bene e vengo su in tira brandata, napro bene il petto. Espiro, mi appoggio e guardo su. Inspirando, di nuovo ritorno su e allungo. Espiro, allungo la gamba sinistra, vuoto dall'altro lato. Inspiro, piego il ginocchio destro, apro. Espiro, mi appoggio. Inspiro, ritorno su, guardo avanti. Espiro, allungo la gamba, mi fermo al centro, mani davanti al petto nel segno della preghiera. Inspiro, sulle braccia, guardo bene su verso l'alto. Espiro, scendo in avanti, mani a terra. Inspiro, guardo avanti, allungo la colonna. Espiro, entro dentro, bene il petto che entra, il mento al petto. Inspirando, allargo le braccia e vengo su, bene il mento al cielo, le braccia al cielo. Espiro, ruoto sulla sinistra e piego, allargo le braccia. Inspiro, bene in su, verso l'alto, mi appoggio e apro. Espiro, ritorno, ruoto i piedi, scendo parte opposta. Inspiro, di nuovo su, al centro, braccia al su, guardo verso l'alto. Espiro, scendo. Inspiro, guardo avanti. Espiro, entro dentro. Inspiro, ritorno su, verso l'alto. Espiro, ruoto sulla sinistra, piego il ginocchio e scendo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro, il mento al cielo, le braccia al cielo. Espiro, di nuovo scendo. Inspiro, guardo avanti. Espiro, entro dentro. Inspiro, bene di nuovo su, verso l'alto. Espiro. Espiro, piego il ginocchio sinistro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Iniziamo a capire la sequenza. Inspiro. Inspiro. Mento al cielo, braccia al cielo. Espiro, di nuovo scendo. Inspiro. Guardo avanti. Espiro. Entro dentro. Inspiro. Di nuovo su, verso l'alto. Espiro. Ruoto sul piede sinistro e piego. Inspiro. Inspiro. Apro. Espiro. Allungo e ruoto sulla sinistra. Inspiro. Mi appoggio. Espiro. Inspiro. Mento al cielo, braccia al cielo. Espiro. Scendo. Inspiro. Guardo avanti. Espiro. Entro dentro. Inspiro. Di nuovo su, verso l'alto. Espiro. Piego bene il ginocchio destro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Su. Espiro. Scendo. Inspiro. Guardo avanti. Espiro. Entro dentro. Inspiro. Di nuovo su. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Mento al cielo. Mento al cielo. Braccio al cielo. Espiro. Scendo. Dovremmo essere pronti. Senza fretta. Rimane. reggiù. La colonna dovrebbe rispondere bene. Mani. Esattamente sotto le spalle. Lo sguardo tra le mani. Provo a muovere la coda in avanti e indietro. Allungare bene le gambe. Cerco di sentire bene l'appoggio sulle mani. E provo, mantenendo le gambe dritte, a spostare bene il bacino a destra e a sinistra. Sentire come stanno le antie. Provo a creare anche dei cerchi con il bacino in senso orario e in senso anti-orario. Sempre mantenendo le gambe dritte. E sistemo ora la colonna, la coda, leggermente in avanti senza esagerare. Il petto che si vuole allontanare dal tappetino. Le mani davanti al petto in segno della preghiera. Bene i gomiti larghi. Le mani lontane dal petto. Lo sguardo attraverso la fissazione dello sguardo al tappetino. La lingua sul palato. Respiro e mantengo la postura. Tempo la coda in avanti. Inizio ad allontanarmi col petto dal tappetino. Le mani invece vogliono andare verso terra. I gomiti larghi. Sento come stanno le ginocchia. Attivo bene anche l'interno del piede in questa postura. E lentamente sollevo il tallone destro. Piego il ginocchio destro. Scendo mantenendo il piede sinistro bene ancorato a terra. E guardo avanti. Inspiro, spingo sul piede, allungo la gamba destra. E di nuovo in posizione centrale. Certo di sistemare di nuovo la colonna. Bene in avanti. Petto lontano dalle mani. Le mani che vogliono andare verso terra. Inspirando, attivo l'interno del piede. Sollevo il tallone sinistro. Mentre scendo, guardo avanti. Mantengo il piede destro bene ancorato a terra. Inspiro, spingo. Ritorno al centro. Recupero la coda. Espiro, piego il ginocchio destro. Inizio a sentire che posso ancora un po' di più guardare in avanti. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, allungo. Recupero la coda. Espiro, mi appoggio sul piede sinistro. E questa volta sollevo il piede destro. Cerco di avere bene la posizione del piede sollevato. L'appoggio sul tallone. Mani davanti al petto nel segno della preghiera. Ginocchio sinistro. Ben posizionato in avanti. Mantengo la postura. Respiro. Sistemo la colonna. Una colonna dritta. Mi inspiro sulle braccia. Espiro, allargo. Inspirando, spingo sul piede sinistro. Allungo e scendo. Parte opposta. Mani davanti al petto. E' un segno della preghiera. Sollevo bene il piede sinistro. Rimango sul tallone. Ginocchio destro ben posizionato in avanti. Respiro. Inspiro. Bene, sulle braccia. Espiro, allargo. Inspiro. Inizio a capire bene il movimento. Inizio a capire bene. Inspiro, allargo. Inspiro. Espiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Lì, espirando lentamente riporto le mani al petto, scendo, coda in avanti, inspiro, vengo su, allungo, guardo verso l'alto, espiro, mi piego sul ginocchio sinistro, inspiro, espiro, inspiro, su verso l'alto, espiro, inspiro, coda in avanti, mani in avanti al petto, insinno della preghiera, espiro, I, N, inspiro, espiro, questa volta su bene il piede sinistro, inspiro, espiro, inspiro, I, N, inspiro, su verso l'alto, mento al cielo, espiro, inspirando, ginocchia a terra, espirando, coda in avanti, mento al petto, spiro, inspiro, guardo avanti, mi siedo sui talloni, espiro, scendo con il petto, incrocio le braccia, posso fermarmi qui, appoggiare la fronte alle braccia, ma se me la sento, mi intolto il petto, bene, la massima sommità del capo a terra, cerco di avere i gomiti ben ancorati a terra, la spinta sui colpi, punto i piedi, sollevo le ginocchia, inspiro, su, provo a ruotare bene le caviglie, aprire le litre dei piedi, e da qui lentamente allargare le gambe, e lentamente di nuovo su, piego il ginocchio destro, gamba sinistra verso destra, incrocio, gancio su le gambe, allargo, recupero su, piego la gamba sinistra, gamba destra verso sinistra, incrocio, ingancio su, e scendo, bene, le ginocchia a terra, le mani al posto dei gomiti, inspiro, apro, espiro, chiudo, e di nuovo abbiamo sperimentato qualche tempo indietro un po' la capriola, senza cercare di sforzarsi, capriola morbida, cerco di massaggiare la colonna mentre faccio la capriola, quindi, da qui, bene le ginocchia larghe, piedi puntati, talloni sollevati, scendo con il petto, allargo un po' i gomiti, le mani, larghezza delle spalle, non ho fretta, allargo bene le ginocchia, cerco di mandare bene i gomiti all'indietro, e scendo, da qui, per massaggiare dalla cervicale fino al sacro, più la faccio lentamente, più la faccio con controllo, quindi non ho fretta, non mi lancio, il vento al petto, appoggio, e giù, allargo, allargo le braccia, mi lascio andare bene a terra, mi sposto sul fianco destro, e mi siedo, mani davanti al petto, nel segno della preghiera, ispiro, namaste, grazie, succede, grazie, grazie, ecco,